Qualcuno mi ha detto che l'agricoltura è l'arte di sapere attendere. E io aggiungo che l'agriturismo è l'arte di saper raccontare e gustare l'agricoltura. Ogni giorno mi sveglio con la consapevolezza di essere fortunato, perché i miei ritmi seguono quelli della natura, che a sua volta scandiscono quelli della mia azienda agricola, che non cambierei con niente al mondo. Devo prendermi cura con la mia famiglia dei campi e dell'Aia, di ciò che coltiviamo e alleniamo. Dobbiamo dedicare il giusto tempo alla cucina e alla sala da pranzo, per non parlare dell'attenzione da dedicare al suggestivo contesto delle nostre camere e a chi ha scelto l'agriturismo. Camminare nell'orto mi riempie il cuore e mi regala sempre la certezza che queste cure porteranno inevitabilmente dei fantastici frutti. Mi hanno insegnato che niente può essere lasciato al caso per riuscire a far vivere un'esperienza unica ai nostri ospiti. Penso che l'agriturista e il proprio territorio siano una cosa unica. I sapori dell'agricoltura diventano il megafono dell'arte e della cultura che i nostri paesi custodiscono nei secoli. Nella nostra marca non mancano le occasioni per godere delle inimitabili creazioni di madre natura e di quelle sorte dal genio dell'uomo. Sono fortunato, anche perché questa terra, grazie al lavoro di centinaia di bravissimi colleghi agricoltori, Ogni giorno dà vita ad una serie di produzioni agricole, vere eccellenze del made in Italy. Realizzare il menù non è mai banale. È lì che gran parte del nostro lavoro trova la propria consacrazione. Cibo sano, con origine certa, ricette della tradizione e stagionalità, accoglienza e disponibilità, Sono parte della nostra identità e garantiscono il nostro patto con i consumatori. Mi piace pensare che portare a tavola le nostre pietanze sia l'abbraccio che diamo ai nostri clienti E che le loro scelte siano le carezze che ci ripagano del nostro lavoro. Negli anni abbiamo coltivato anche noi stessi, pretendendo sempre di più per valorizzare la nostra professione. Oggi possiamo qualificarci anche grazie al diploma di cuoco contadino. C'è poi una parola che amo del nostro lavoro. Multifunzionalità. Grazie ad essa le nostre fattorie possono essere didattiche e sociali, a misura di grandi e piccini. Le nostre imprese agricole sono delle vere e proprie porte aperte sul territorio, per farlo vivere pienamente e intensamente. Siamo scelti perché siamo diversi per vocazione e perché la campagna sa essere davvero amica. L'agriturismo è casa tua e non sono solo io a pensarlo. Grazie a tutti.